Il termoli di Cardamone smuove notevolmente la classifica, dopo il primo risultato positivo acquisito contro l'Agnone è arrivata la seconda vittoria ottenuta nel match contro la Recanatese. La salita per i giallorossi è ancora ripida, infatti spetta loro una gara molto importante. Domani, decima giornata di campionato di Serie D, li vedrà protagonisti sul campo neutro di Pescina presso lo stadio Barbati, ospiti del Celano. Ricordiamo che gli avversari attualmente ricoprono l'ultimo posto in classifica, proprio quello che per diverse giornate era occupato dalla compagine adriatica che certamente non può cullarsi su loro e sì perché non bastano le due vittorie, il cammino per la salvezza continua e non è affatto scontato. I ragazzi di Mister Cardamone infatti lottano per portarsi a casa la terza vittoria consecutiva che potrà nel caso permettergli di posizionarsi in zone tranquille della classifica ed abbandonare così postazioni da bollino rosso. Loro comunque sono consapevoli e coscienti, non abbassano la guardia. Durante la settimana intensi infatti sono stati gli allenamenti diretti e seguiti da un esigente Cardamone. Per la squadra domani importante recupero. Scende in campo dopo esser stato fermo per squalifica il capitano Sergio Ruggeri ma al contempo si perde il non indifferente centrale difensivo Ciro Pozziello per lo stesso identico motivo. Domani al Barbati Mister Cardamone conferma il classico 4-3-3. Spazio a Natali tra i pali, Scarpone e Sorianiello sulle fasce è probabile l'alternativa di Dispoto sulla destra. Francese, Ruggeri, centrali difensivi. Raffaele Pozziello, Simonetti e Caprioli in mediana con tondem offensivo di Maiorano, Di Rito e Santoro. Quest'ultimo tra l'altro non al massimo della forma fisica. Ancora nessuna news in merito alle trattative societarie che continuano e dentro la settimana prossima probabilmente sarà possibile avere un quadro più chiaro. Comunque al massimo nel mese di novembre si saprà il futuro del Termoli. Ricordiamo sarà una partita a porte chiuse. La tifoseria adriatica non potrà seguire i propri beniamini. L'appuntamento è per domani alle 14.30. Celano Termoli allo Stadio Barbati con fischio d'inizio dato dal signor Vittorio Di Gioia di Nola.